Come assaporare il gusto e ammirare i colori d'Abruzzo? La risposta è mediterranea. La mostra Mercato del Lago Realimentare Abruzzese, giunta alla 31esima edizione, si conferma punto di riferimento per tutto il settore primario regionale. Nell'edizione 2016 però si è andati oltre i confini del territorio abruzzese e in ossequio al nome che richiama la matrice comune del Mare Nostrum, ospiti della giornata inaugurale della mostra sono stati i rappresentanti delle istituzioni e degli importatori marocchini. Il paese nordafricano è tra i pochi, se non l'unico, ad offrire in quella parte di mondo condizioni economiche di sicurezza favorevoli a distaurare commerci con l'Italia e l'Abruzzo. C'è il primo distributore commerciale marocchino qui presente che incontreranno circa una venticinquina di aziende. Tra oggi e domani ci saranno circa una settantina di incontri, per cui siamo soddisfatti perché molte aziende hanno richiesto questo paese che in questo momento, visto i parametri di sicurezza e di tranquillità, è ricercato dal punto di vista delle esportazioni italiane. Un gemellaggio assolutamente lungimirante con il Marocco, con la cucina di quel territorio, con i nostri prodotti che ben si coniugano con una serie di realtà italiane ed estere. Complimenti davvero alla Camera di Commercio e complimenti davvero ai nostri produttori, ai nostri imprenditori agricoli che sono divenuti sempre più protagonisti dell'economia regionale.